Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, io sono Elna, grazie per seguire il mio canale. Scusate, è stata un pochino assente, ma diciamo che ho visto dei miei parenti che non vedevo da mesi, ragazzi, quindi ho avuto da fare. Mi avete richiesto particolari video, cercherò di farveli, anche perché mi sono scocciata, anche di parlare sempre di truzzi di Giaveno, che sinceramente, vabbè, sì, ci divertiamo, perché è un po' come quando uno va allo zoo e lancia le noccioline ai babbuini, cioè, ok, ti diverti, però dopo un po' che palle. Quindi volevo fare anche altri video differenti. Oggi video ricetta, ragazzi, visto che non posso parlare di altri argomenti, video ricetta di oggi. E oggi facciamo una delle mie ricette preferite, ossia l'insalata russa. Sigla! Bene, gente, quindi oggi vi faccio vedere come io faccio l'insalata russa, la memorabile, fantasmagorica, meravigliosa e succulenta insalata russa. Uno degli antipasti, secondo me, che non deve mai mancare su nessuna tavola. Ovviamente la potete fare iniziando da zero, quindi facendo bollire le verdure, che ricordo sono piselli, patate e carote. Oppure, se volete risparmiare tempo, fate come faccio io, cioè comprate questo, il preparato, spero che si veda, spero che si veda. Comunque questo è il preparato della Bonduelle surgelato. Tutto naturale per fare la mitica insalata russa, ragazzi. Veramente fantastica. Questa ve la consiglio, ve l'avevo già consigliata tre volte, perché comunque è un ottimo anche contorno, perché non ha nessun condimento. Ci sono solo le verdure surgelate, quindi non ha grassi, non ha sale, non ha conservanti, ma abbiamo soltanto le tre verdurine che servono per fare la fantastica e mitica insalata russa surgelate, pratiche e comode da tenere nel freezer. Costa anche relativamente poco, cioè compratela poi quando è anche scontata, perché risparmiate i quattrini. Allora, ovviamente vi farò vedere come prepararla, ma è semplicissimo. Forse avevo pure fatto un video su TikTok, vabbè comunque. Dovete far bollire una parte, oppure tutto il pacchetto di verdure per circa 5-7 minuti, fino a quando non diventano tenere, ma non troppo molli, mi raccomando. Vi consiglio di salare leggermente l'acqua, in modo che siano un po' più saporite, perché come vi dicevo queste verdure non contengono nient'altro che le verdure e basta. Poi l'altro ingrediente fondamentale dell'insalata russa, a parte il succo di limone se qualcuno ce lo vuole mettere, ma tanti non lo mettono. Il secondo ingrediente fondamentale dell'insalata russa, adesso le vado a prendere, sono due, è la maionese, ragazzi. La mitica maionese. Ovviamente potete fare la maionese anche fatta in casa, cioè ci saranno un sacco di tutorial per fare la maionese, sapete? Olio, tuorli, succo di limone e sale e pepe. Insomma, non ve la spiego neanche perché comunque è una delle basi della ricetta, è una delle basi delle salse per fare varie ricette. Però se volete fare prima, vi consiglio due maionesi pronte. La prima è questa qui della Biffi, guardate che bel tubone. Questa è della Biffi, della maionese bio, biologica, la mia preferita. Certo, fosse stata nel barattolo di vetro, Biffi, sarebbe stato ancora meglio. Comunque, devo dire che visto che non è che mangio così tanto maionese, perché comunque è molto calorica, va bene anche nel tubetto di alluminio. Questa è fantastica, ragazzi, perché è veramente buona anche di gusto. L'ho presa perché ha ingredienti tutti sani. Abbiamo olio di semi, di girasole biologico, uova bio. Poi abbiamo aceto di vino biologico, zucchero di cannabio, succo di limone, aroma naturale di pepe, aromi naturali. E poco acido lattico. È la meno peggio che ho trovato tra le maionesi pronte, perché ce ne sono altre che hanno veramente ogni genere di robaccia dentro. Io sono sempre dell'idea che non bisogna esagerare che ho cibi pronti, però se ne dovete prendere uno, cercate di prendere il meglio. Tanto comunque non è che dovete sfondarvi di maionese. Quindi questo è sicuramente un ottimo acquisto. Però se invece siete vegani, oppure siete più attenti alle calorie, vi consiglio questa qui dell'olio cuore. Che è la maionese senza uova, 100% vegetale. È arricchita anche con vitamina E e B6, ragazzi. Quindi comunque, secondo me fa bene. Quindi tende anche a mantenere i livelli del colesterolo normali. Non ha il gusto della maionese, ve lo dico. Io sono sincera. Però non è malaccio. Devo dire che non è malaccio. Vi rende l'insalata russa molto più delicata. Costa di più, ovviamente. Tutte le cose vegane costano un botto. Però potete comprarla quando è scontata. Spesso e volentieri è scontata. Non è male. Quindi secondo me tra le due maionesi pronte, queste sono le migliori. Rimane il fatto che se vi fate voi tutto, è pure meglio, ovviamente. Comunque adesso vi lascerò al tutorial per farvi vedere come è facile fare la mitica e fantasmagorica insalata russa. Che mangeremo veramente tantissimo. Io la adoro. Potete farci i panini, potete farci i boulevard ripieni. Va bene un po' per tutto. Va bene anche come accompagnamento. E quindi ve la consiglio. Niente, vi saluto. Vi lascio al tutorial. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Allora ragazzi, questa è l'insalata russa. Come potete vedere, io ho messo le verdure ancora surgelate. Guardate che carina. La base per le due ricette. Potete anche usare queste verdurine per fare le torte salate, le frittate e i contorni. Sono fantastiche. Adesso vabbè, sono ancora congelate. Le dovete far cuocere poco. Qua dice 4 minuti dopo l'ebollizione. Poi sgocciolate. E niente. E poi ci uniremo la maionese alla fine. E se volete anche un po' di pepe succo di limone, se vi piace magari. Un pochino più saporita. Vedete ragazzi? Guardate che bel colorino che hanno. Adesso le faccio bollire 4 minuti o 5. Poi le scolo, le lascio raffreddare e ci metto la maionese. Adesso le faccio bollire 4 minuti o 5 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 minuti o 5